Buongiorno a tutti, cominciamo questa sessione pomeridiana, purtroppo siamo in sovrapposizione con altre sessioni, quindi siamo un po' a cavallo, quindi l'affluenza è qualificata ma limitata e quindi diciamo dire di iniziare subito, abbiamo qui con noi Alessandro Faramondi che è responsabile del servizio SEC che è quello che ha sviluppato, progettato insieme a molti colleghi presenti il Frente Editoriale, abbiamo il professor Marco Bellandi dell'Università di Firenze, noto esperto di analisi e studioso di seti industriali ma anche altre cose legate con lo sviluppo locale e un quarto perché ci sta sul raccordo qualcosa di un problema di traffico. Allora, quello che noi vorremmo fare, c'è stato recentemente un evento di presentazione del Frente Editoriale, il Frente Editoriale è tendenzialmente un esempio concreto e tangibile del potenziale informativo dell'Istituto quando viene declinato secondo i registri estesi, quindi noi siamo partiti dal registro base delle unità locali e degli stabilimenti, fondamentalmente su questo abbiamo costruito delle stime e delle integrazioni che ci ha portato a stimare a livello di comune ma anche a livello subcononale tutte le principali variabili strutturali, quindi tendenzialmente è un cambio di passo dal frame SBS che a livello macro e a livello micro era prevalentemente orientato a analisi nazionali, al frame SBS persone territoriale che invece è orientato all'analisi del territorio, l'impatto del territorio, i territori eccetera eccetera. Quindi abbiamo cambiato la platea degli interlocutori, io non parlo, siete fortunati, Alessandro Faramondi rapidamente riepiloga gli aspetti metodologici, i principali risultati, poi più o meno con le stesse evidenze empiriche presentate nel frame territoriale, il professor Berlandi e il professor Diapadre le rileggeranno dal loro punto di vista, che è quello di il professor Berlandi, economista industriale, esperto di sviluppo locale e il professor Diapadre economista internazionale, quindi valorizzerà più la parte legata all'internazionalizzazione. Quindi io passo la parola a Alessandro Faramondi e cominciamo subito. Allora, insomma, diciamo già la parola a Alessandro Faramondi e cominciamo subito. l'ha detto Stefano, platea qualificata per chi ha partecipato all'evento del 13, ho provato a fare qualche piccola differenza, se no veramente sembro un venditore che presenta sempre lo stesso prodotto e diciamo non è proprio, no no, anche a Palermo, la SIS, venti giorni tre volte, domani pure. Allora, come diceva Stefano, questa presentazione, con questa presentazione darò una breve, farò una breve presentazione sul frame territoriale. Frame territoriale sostanzialmente è quelle che sono le sue caratteristiche. poi una disamina del potenziale informativo, ma in realtà più che altro quello che è stata la stima a livello comunale, delle prime evidenze e velocemente le conclusioni. Che cos'è il frame territoriale? Allora, il frame territoriale è una base dati sostanzialmente sulla struttura, localizzazione e performance economica di ciascuna delle 4 milioni e 700 mila imprese e unità locali attive in Italia, sostanzialmente così come è stato per il frame SBS, per chi ricorderà il frame SBS è stata diciamo la prima esperienza di registro esteso nell'ambito delle imprese realizzata nel 2012 e si fonda sull'uso massivo di dati amministrativi, dati fiscali integrati con quelle che sono le principali indagini, essendo tutti dell'Istat praticamente, le indagini che vengono considerate sostanzialmente sono quasi tutti dell'Istat, quasi tutti. Diciamo le principali indagini a cui si fa riferimento sono PMI e SCI sostanzialmente, che per quanto riguarda SCI forniscono le variabili to cure, per quanto riguarda PMI vengono utilizzate come variabili di dettaglio sostanzialmente. Qual è la caratteristica che possiamo dire differenzia, cioè il passo avanti che si fa con i registri estesi, in questo caso col frame SBS territoriale? Ovviamente tutti capiamo che la prima opzione è quella di poter ottenere delle stime ad un dettaglio molto fine, questo diciamo proprio viene da sé, quindi possiamo ottenere stime a livello comunale, subcomunale, cioè pensiamo che l'Istat non l'aveva mai diffuse, per esempio stime a livello comunale del valore aggiunto, ci sono esperienze che vanno avanti da più di 20 anni, quasi 30 anni, di tentativi di fare stime a livello comunale, ma sono tutte stime, diciamo model based, in questo caso sostanzialmente stiamo su una somma, sommiamo e otteniamo il valore di interesse. Qual è la caratteristica che va considerata? In realtà in questo modo noi riusciamo a fare delle analisi, non considerando semplicemente il valore medio, come in tutte le stime avviene, in tutti i calcoli avviene, ma possiamo andare in una logica di approfondire sempre di più e questo ci consente, proprio poiché il calcolo del parametro avviene per somma, questo ci consente di andare in profondità e vedere proprio quelle che sono le differenze insite nei territori e appunto possiamo ottenere stime per sottopopolazioni dimensionali, settoriali e ovviamente anche territoriali. Il frame SBS territoriale, come già accennavo, rientra nel sistema dei registri, che il sistema dei registri, come tutti sappiamo, è una delle principali innovazioni introdotte dall'Istat negli ultimi tre anni ed è l'elemento cardine su cui si innervano tutte le nuove novità. Qual è il sistema sulla base del registri, il sistema dei registri delle imprese? Sostanzialmente il sistema dei registri delle imprese nasce con Asia, che è un registro base e a seguito di Asia abbiamo il frame SBS, quindi sostanzialmente un registro per imprese e sul registro esteso SBS noi possiamo ottenere indicatori per ciascuna delle imprese, è importante sottolineare il fatto che non si parla di unità locali ma solamente di imprese per il frame SBS a livello sia di indicatori economici che di internazionalizzazione. invece il frame SBS territoriale è un'estensione del frame, se vogliamo, un'estensione anche sulle unità locali, è questa la principale vera caratteristica e l'elemento che ha sempre rappresentato un ostacolo allo sviluppo del frame territoriale effettivamente qual è stato? è stata la stima del valore aggiunto, cioè voi capite bene che la stima del valore aggiunto è un parametro che viene ottenuto a livello di impresa attraverso i dati del conto economico. Come è stato possibile ottenere una stima affidabile, perché di questo si tratta, del valore aggiunto a livello di unità locale? Diciamo è stato sfruttato la realizzazione di un altro registro, il registro dei redditi, il registro del costo del lavoro sostanzialmente a livello di unità locale, poiché il valore aggiunto diciamo siamo tutti abituati a vederlo come differenza fra produzione e costi intermedi sostanzialmente quello che viene definito in letteratura l'approccio della produzione ma in realtà ci sono anche altri modi per vedere il valore aggiunto e uno di questi altri modi è l'approccio del reddito, l'income approach e come si delinea l'approccio del reddito è sostanzialmente la somma di tre componenti, costo del lavoro, consumo di capitale fisso e margine operativo netto. Nel momento in cui abbiamo l'informazione sul costo del lavoro che ci viene dal registro che è chiamato RACLI territoriale, allora a quel punto ci si apre uno scenario che è quello di poter calcolare almeno la metà del valore aggiunto perché il costo del lavoro rappresenta almeno la metà del valore aggiunto, quindi un buon 50% ce l'eravamo portati a casa, quindi si è trattato sostanzialmente di stimare gli ammortamenti, quindi il consumo di capitale fisso e il margine operativo netto e su queste diciamo due componenti poi si sono affinate tutta una serie di metodologie sia dal punto di vista della stima degli ammortamenti che per quanto riguarda il margine operativo netto, il margine operativo netto, la stima avviene non per impresa ma per business line, proprio per differenziare i diversi livelli di redditività e produttività delle attività economiche all'interno della singola impresa. Quali sono, oddio, no indietro no, allora sì, allora qui vediamo quali sono le informazioni che abbiamo disponibili sul frame territoriale, le informazioni disponibili sono ovviamente variabili di struttura, una buona parte sono variabili desunte da Asia a unità locali, un'altra parte diciamo sono informazioni aggiuntive, quindi oltre le informazioni di Asia a unità locali abbiamo poi l'appartenenza a gruppi di impresa, l'appartenenza a gruppi a controllo estero, se le unità locali o le imprese appartengono a imprese esportatrici o imprese importatrici, se sono imprese artigiane e poi tutta una sfilza di variabili economiche che vanno dal fatturato, quindi dai ricavi, fino ad arrivare al margine operativo lordo. Quindi effettivamente c'è una, per la prima volta, una batteria di informazioni a livello di unità locale. Questi sono gli indicatori che abbiamo diffuso il 13 sui punto stat, quindi oltre quelle che possono essere le informazioni disponibili a livello di singola unità locale, tutte queste tavole già le potete trovare sui punto stat, quindi in grigio ci sono informazioni a livello regionale, in grigio le tavole regionali, in bianco tavole per sistema locale, in blu tutte le tavole per sezione di attività economica dei comuni capoluogo e poi qui in rosa o quello che è delle tavole degli 8.000 comuni, il totale in termini dei principali indicatori e quindi appunto valore aggiunto, fatturato e quant'altro. Qui vedete la graduatoria dei primi 20 comuni capoluogo per valore aggiunto, quindi come vedete abbiamo il comune, qui parliamo proprio di comuni, quindi questi sono ovviamente per semplicità ho messo i comuni capoluogo, che appunto come dicevamo nell'altro caso abbiamo 8.000 comuni, quindi sono i primi 20, abbiamo Milano al primo posto, Roma al secondo, poi Torino, Genoa, Napoli. I comuni, come vedete in realtà Milano e Roma in termini di valore aggiunto sviluppano la stessa, cioè valori molto molto vicini, siamo intorno ai 52 miliardi in tutti e due i casi e in termini di percentuale sul totale Italia siamo intorno al 7,3 per Milano e 7,2 per Roma. I comuni del mezzogiorno che appartengono ai primi 20 sono Napoli, Palermo, Bari e Catania. Una cosa interessante che vorrei evidenziare è il confronto fra il contributo in termini di valore aggiunto e il contributo in termini di unità locali. Come vedete il contributo in termini di valore aggiunto è quasi sempre superiore al contributo in termini di unità locali, in realtà è vero sempre tranne che per i comuni del mezzogiorno e per Prato. Allora il motivo sostanzialmente qual è? Sono due in sostanza che nei comuni del mezzogiorno la dimensione delle unità locali è mediamente più piccola e la produttività è inferiore e questo diciamo dal punto di vista proprio di questi due parametri genera questa differenza. Torniamo sul raffronto Milano-Roma proprio per vedere quanto si possa fare un'analisi incrementale in profondità, andare sempre più in profondità. Abbiamo prima quindi Milano e Roma abbiamo detto in termini di valore aggiunto sono valori molto simili, poi se andiamo a vedere, se andiamo a fare un confronto già su macro settori vediamo che ci sono già differenze abbastanza considerevoli, quindi ad esempio si evidenzia subito una struttura profondamente diversa. La manifattura è fortemente più sviluppata a Milano, c'è il 23% di valore aggiunto in più a Milano rispetto a Roma, le costruzioni è vero il contrario, il valore aggiunto delle costruzioni è il 38% in più a Roma rispetto a Milano, le utilities il 70% più sviluppate dal punto di vista del valore aggiunto a Roma, il commercio Milano. Quindi già andando su un livello così non particolarmente di dettaglio già emergono delle differenze, ovviamente questo potrebbe cioè volendo fare un approfondimento potremmo andare a vedere la manifattura, quali sono all'interno della manifattura i settori che si differenziano perché sicuramente potremmo trovare all'interno del settore manifatturiero dei segmenti produttivi sicuramente più sviluppati a Roma, quindi diciamo potrebbe essere un tipo di analisi che col frame territoriale riusciamo a fare. Oppure qui ci siamo sbizzarriti, abbiamo preso in considerazione la fabbricazione di coloranti e pigmenti, quindi proprio un livello molto di dettaglio delle attività economiche e ci siamo andati a vedere il valore aggiunto dove si concentra, in quali comuni, come vedete i primi 10 comuni sostanzialmente sono concentrati nel nord ovest, ma in particolare nella parte ovest della Lombardia concentrano oltre il 60% del valore aggiunto. Quindi questo non tanto per rappresentare un elemento di analisi quanto come esempio per vedere il tipo di profondità del frame, quanto ci consente di andare a fondo. Qui parliamo praticamente di comuni piccolissimi a livello di 5 digit. Poi stessa cosa per esempio la fabbricazione di biciclette e accessori e montaggio di biciclette dove abbiamo una fortissima concentrazione nel Veneto, terra tradizionalmente di ciclisti. E anche qui i primi 10 comuni concentrano oltre il 55% del valore aggiunto. Un ultimo spunto di analisi particolarmente interessante perché addirittura fino a adesso abbiamo visto degli esempi che comunque per quanto in dettaglio prendevano in considerazione dei territori, quindi dei comuni anche se piccolissimi e dei settori di attività, quindi comunque dei domini, cioè erano comunque delle analisi per dominio. Invece trattandosi di un registro ed essendo un registro sostanzialmente censuario noi potremmo prendere in considerazione le caratteristiche delle singole unità e vedere effettivamente su queste unità che tipo di elementi possono caratterizzarli. Un esercizio ma non più di un esercizio per esempio può essere quello di considerare un panel su due anni e vedere quali sono le unità che sono presenti in tutti i due anni, noi abbiamo fatto questo esercizio sul 2014 e 2015 e sulle unità che erano presenti in tutti i due anni abbiamo valutato quale fosse la variazione in termini di valore aggiunto in termini di addetti e abbiamo in qualche modo battezzato come vincenti le unità che avessero sia un aumento del valore aggiunto sia un aumento degli addetti e tutte le altre o perdenti o comunque quell'aria grigia dove si ha un aumento del valore aggiunto e non degli addetti e viceversa. Quello che è venuto fuori è che la regione dove si ha la maggiore concentrazione di unità vincenti è la Lombardia, ovviamente non in valore assoluto ma in percentuale, quindi quasi oltre il 47% di unità della Lombardia dal 2014-2015 è risultata in aumento sia di valore aggiunto che di addetti e se tenete conto che questo è un periodo dove si stava ancora, cioè si stava appena uscendo dalla crisi, eravamo ancora diciamo con un piede nella crisi e uno che tentava di andare oltre l'ostacolo. Se volendo andare a vedere poi le caratteristiche di queste imprese, proprio per dire che qui siamo in una logica di imprese e unità locali, vediamo che la maggiore concentrazione si ha nei servizi veterinari, quindi proprio andando in profondità, trasporto terrestre, servizi legali e contabili, ovviamente anche nei periodi di crisi i servizi legali vanno alla grande. Per finire, le conclusioni, allora siamo in presenza ovviamente di un progetto strategico, cioè questo è un progetto fondamentale dal punto di vista del sistema imprese, è un progetto strategico molto complesso che ha visto il coinvolgimento di molti ricercatori dell'Istat, non solo ricercatori della direzione ma ricercatori anche di altre direzioni, la Decat, Francesco Truglia e la Mantuano sono stati dei validi ricercatori, Francesco da tre anni che collabora con noi sul frame territoriale e tutti i colleghi della DCSE e i colleghi della DCCN che anche hanno contribuito sia in fase di valutazione e validazione e anche diciamo in termini di fornire utili indicazioni per migliorare il tutto, utili indicazioni per migliorare il tutto che non si sono assolutamente esaurite, nel senso che ovviamente siamo nel pieno di una fase incrementale dove il prodotto deve subire ulteriori migliorie, quindi abbiamo nel periodo 2015-2017 c'è stata la fase di sperimentazione, a giugno 2018, il 13 giugno è stato sostanzialmente presentato per la prima volta il frame territoriale del 2015, a ottobre 2018 verrà presentato il frame 2016 già con delle prime novità dove per prime novità si fa riferimento al lavoro che già stiamo facendo di profiling sulle unità più grandi per attribuire in modo molto preciso il settore di attività economica e anche la localizzazione di tutte le unità, quindi diciamo proprio un lavoro fatto andando sui siti, telefonando, insomma diciamo un lavoro puntuale e capillare sulle grandi imprese per mettere in sicurezza le unità locali delle grandi imprese. Giugno 2019, quando sarà sostanzialmente rilasciato il frame territoriale del 2017, allora ci sarà un ulteriore affinamento sulla parte che riguarda sempre le classificazioni e non solo, nuove informazioni anche sugli ammortamenti, visto che gli ammortamenti adesso per la parte che rientra nella stima del valore aggiunto all'interno sono stime sostanzialmente model based e in questo caso siamo andati a chiedere alle imprese informazioni proprio sugli ammortamenti nelle unità locali e questa è un'informazione che per la prima volta avremo nel 2019. Io direi che è finita, grazie a tutti per l'attenzione. Grazie, 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 ho dato spazio ad Alessandro Piccato perché è appunto una porta patria dell'istituto, però i tempi sono abbastanza stretti, quindi a questo punto passerei la parola al professor Marco Bellandi. Grazie, grazie Stefano e grazie anche a dottor Faramolli per questa rappresentazione di nuovo questa direi fantastica opportunità di studio per tutti gli interessati a capire cosa succede in Italia, nell'industria e nelle attività produttive. Io userò alcune diapositive che Stefano Menghinello ha già presentato il 13 giugno e faccio qualche mio commento che riprende anche qualche cosa già detto da Gianfranco Viesti in quell'occasione, però diciamo con qualche variazione sul tema. Essenzialmente parlerò dei primi tre punti, l'ultimo è solo un aggancio a quello che poi svilupperà di più Lelio Iapadre che ora è arrivato e quindi parlerò di dimensioni dell'eterogeneità dei sistemi produttivi italiani, variabilità della distribuzione territoriale e delle specializzazioni settoriali, territori della manifattura e dei servizi e di vari produttivi nord e sud. Prima di entrare in questi argomenti, comunque riprendendo quello che abbiamo appena visto, il fatto di poter avere unità locale addetti e valore aggiunto, cioè distinto tra ricavi e costi, permette un salto in avanti già di per sé e non a livello territoriale. Un salto in avanti enorme perché si passa da rappresentazioni in cui si dice le attività produttive sono distribuite così, poi ci sono dei dati sulle esportazioni, altri dati a livello regionali che ci dicono qualcosa sulla performance. Invece ora si possono fare analisi sulla performance direttamente. Questo è la cosa fantastica. Allora, dimensioni dell'eterogeneità dei sistemi produttivi italiani e questa è la classificazione in base ai sistemi produttivi locali, la classificazione che qui all'Istat avete prodotto e conoscete sicuramente meglio di me. E c'è questo, soltanto due aspetti vorrei sottolineare su questo cosa. Da una parte, appunto, quello che è già stato rilevato, i sistemi locali, urbani, no, non è nuovo questo, si sapeva di già, però qui viene misurato appunto con il valore aggiunto, precisamente. Cioè i sistemi locali, urbani e in particolare un tipo, anzi due tipi di sistemi locali urbani, quelli che vengono chiamati ad alta specializzazione, di fatto alta specializzazione terziaria, sono Milano, Roma, Bologna, Ibrea e un altro, mi ricordo, Bologna e Bologna, e poi quelli plurispecializzati, dove sono, in fatto, sistemi urbani che hanno anche una quota importante di manifattura. Allora, lì, quelli sono, lì dentro c'è tanta industria, c'è tanta industria, e un po' anche dove ci sono i servizi fortuali. Comunque, c'è tanta industria, una parte importante dell'industria italiana e della capacità di creare valore aggiunto, sta lì. Ripeto, non è una cosa del tutto nuova, si sapeva già un po', basta vedere gli addetti, dove stavano, ma qui si vede che è una questione non solo di localizzazione degli addetti, ma anche la produttività è enorme. E questo è un punto. Secondo, il Made in Italy comunque rimane importante per l'industria italiana e questo, i sistemi locali del Made in Italy, fatte da quelli che in tutte le classifiche internazionali sono definiti come settori tradizionali a basso livello tecnologico e così via, continuano a essere una parte importante dell'industria italiana, dove il valore aggiunto rispetto per addetto è a livello medio-alto, cioè non è altissimo perché il livello altissimo c'è solo qui, nei sistemi locali, urbani e alta specializzazione, è a livello medio-alto e dove ci sono anche i servizi, soprattutto in alcuni di questi sistemi, quello di fabbricazione delle macchine, dove non a caso c'è anche il più alto valore aggiunto per addetti. Quindi i sistemi locali del Made in Italy continuano ad essere una parte importante dell'industria italiana e dentro c'è anche tanti servizi, quindi è come una specie di storia speculare a quella delle città. Nelle città importanti c'è molta industria e il grosso di quelli sono distretti industriali e nei distretti industriali ci sono anche i servizi. Poi c'è anche ovviamente la manifattura pesante dove, come ci si può aspettare, la produttività è medio-alta e questo è un primo elemento, cioè questo ci dà una traccia importante di ragionamento grazie al valore aggiunto. Poi variabilità, vado veloce perché, variabilità della distribuzione territoriale delle specializzazioni settoriali, cioè vado veloce perché da dire ci sarebbe tantissimo, cerco soltanto di appunto segnalare alcune questioni che poi hanno un carattere più generale e che richiamo poi nelle conclusioni. Qui vediamo anche altre carte simili a quelle che ha già fatto vedere Alessandro Faramolli. Allora, il valore aggiunto della fabbricazione per esempio di robot industriali e si vede questa concentrazione che è essenzialmente in quest'area, insomma è l'area Emilia-Romagna e poi Bologna-Venezia, insomma Veneto, Lombardia e Piemonte. E poi ci sono varie isole sparse. La concentrazione è molto alta e lo stesso si potrebbe pensare per altre industrie, ma non è per tutto. Per esempio, fabbricazione di stampi, portastampi, sagome e forme, che cos'è questa qui? Qui è la classica meccanica di complemento alla meccanica strumentale o anche alla costruzione di fabbricati, a tutto. Vedete come, anche se c'è specializzazione, però la distribuzione territoriale è già molto più ampia. È molto più ampia e, diciamo, però non è omogenea. È molto più ampia, ma segue un po' i territori, salvo alcune isole nel sud e intorno a Roma, di che cosa? Dell'industria, dei sistemi locali produttivi, manifattuieri italiani. Quindi, perché è più diffusa? È perché sono industrie di servizio A. Queste sono l'elaborazione dei dati, hosting, attività connessi e portali web. Qui la carda ci dice che ci sono da tutte le parti, però i dati del valore aggiunto, dei primi cinque comuni e dei primi dieci comuni, ci dice invece che sono molto concentrate. E dove sono concentrate? Sono concentrate, oltre a Bergamo, che è sia un distretto industriale che una città, sono concentrate in città, Bologna, Firenze, Milano, poi Modena, un'altra città, capoluogo, che è anche un distretto, Padova, Roma. Quindi, questo tipo di servizi sono servizi che sono di tipo di fatto urbano, si concentrano in sistemi urbani, però c'è domanda da tante parti, è per questo che vediamo questa. E questo pure è molto interessante, design specializzato. Il design specializzato è un servizio di punta per il Made in Italy. È sparso un po' da tutte le parti, però se vedete la concentrazione dei rossi, siamo sempre qui, c'è anche la Toscana, perché in Toscana ovviamente ci sono molti distretti del Made in Italy, e si vede i primi dieci comuni, Bologna, Cambiano, Como, Firenze, Milano, Novara, Prato, eccetera. Quindi, è una combinazione fra le città dove c'è l'industria manifatturiera, tipo Milano e Bologna, e i distretti industriali. E lì ci sta il design, che è una funzione di servizio pregiata, non in generale, cioè non è, diciamo, i servizi di fisica atomica per le centrali nucleari, no, sono i servizi specifici per il Made in Italy. Passo a un'ultima considerazione di sintesi su questo. Se poi si va a vedere, ci sono altre cartine, il valore aggiunto per addetto, si vede che il valore aggiunto per addetto segue abbastanza la localizzazione dove si concentrano le attività. Cioè si vede, e magari qui avrete già fatto dei modelli econometrici di stima, o forse li farete, o forse li potremmo fare. Cioè c'è una correlazione abbastanza forte fra la specializzazione territoriale e la performance in termini di valore aggiunto per addetto. E questo è un qualche cosa che in economia regionale, in tutte le riviste, a livello internazionale, si sospetta che ci sia, ma ora si potrà misurare. E questo è importantissimo. Allora, territorio della manifattura e dei servizi di vari prodotti di nord-sud. Li metto insieme perché c'è poco tempo, anzi sto per concludere, e vediamo queste altre carte meravigliose. Allora, questo è il valore aggiunto per addetto. Quindi livelli. Industria manifatturiera, ad alta intensità tecnologica, industria manifatturiera a ridotta intensità tecnologica, siamo in classificazione standard. Che cosa ci dice queste carte? Vedete, le industria manifatturiera ad alta intensità tecnologica, come ci si può aspettare, sono meno diffuse territorialmente in Italia rispetto a quelle a ridotta intensità tecnologica. sono meno diffuse ma non così poco diffuse. Poi, se si va a vedere caso per caso, settore per settore, poi la concentrazione è elevata in pochi comuni di punta. Però, nel complesso, il nero è il valore aggiunto per addetto, ricordando quello detto prima, che il valore aggiunto per addetto alto corrisponde anche a una localizzazione alta, tende a corrispondere. non ho rimesso anche le altre carte, perché ci danno una traccia, no? Nel complesso, la localizzazione e la capacità di alta performance, misurata dal valore aggiunto per addetto, tende ad essere abbastanza diffusa, ma comunque ha sempre questo asse molto forte, che qui è Toscana, Emilia, Veneto, da una parte e l'altro Emilia, Lombardia, Piemonte, questa specie di X, con più delle isole, isole Roma e un po' di sud, e soprattutto in Puglia. Salto, quella della... Servizio ad alta intensità di conoscenza. qui la considerazione è analoga a quella dell'industria ad alta tecnologia, perché c'è questa concentrazione che tende ad avere queste due direttrici, anche se sono direttrici, per così dire, fotografiche, non è detto che siano direttrici economico-territoriali, di rapporti. E questo è uno degli elementi, fra l'altro, di grande interesse che andrebbe approfondito. Cioè, questa era un'immagine che ricordava anche Gianfranco Vieschi, no? Dice, beh, nel nord c'è un sistema, c'è un sistema in cui hai sia industria ad alta intensità tecnologica, sia industria a bassa intensità tecnologica, sia servizio ad alta intensità di conoscenza e ce l'hai, non sparsi, ce l'hai insieme in vari tipi di sistemi produttivi locali, città, distretti e così via. Al sud molto meno. Ecco, il fatto che sia un sistema andrebbe, come dire, lo sospettiamo, ma andrebbe anche argomentato statisticamente, no? in termini di correlazione con l'uso delle infrastrutture e della mobilità, mobilità delle persone e così via, e rapporti con le università. Ultima cosa, praticamente sto finendo, c'è questa altra carta, correlazione spaziale locale a bivariata rispetto alla manifattura dei servizi ad alta intensità di conoscenza. Il rosso vuol dire che ci sono dei comuni in cui c'è sia contemporaneamente un alto valore aggiunto nei servizi ad alta intensità di conoscenza che un alto valore aggiunto nella manifattura. Invece, il nero vuol dire, questo verde, vuol dire bassa, no, scusate, il verde più chiaro vuol dire bassa-bassa e gli altri sono sempre elementi non connessi su alto-alto. Ecco, vedete, il rosso è tutto nel nord, di fatto, nel centro-nord e il verde è tutto nel sud, quasi tutto nel sud. Questo è, diciamo, se si volesse dire dopo quanti anni dall'Unità d'Italia, no, cioè, anzi, no, perché l'Unità d'Italia non era così grave. Dalla fine dell'Ottocento, quando è stata studiata per la prima volta la questione meridionale, dopo più di un secolo a che punto siamo con la questione meridionale? Ecco, questa è la nuova questione meridionale. Si pone a questo livello il fatto di una capacità, una possibilità di integrare industria e servizi che è la frontiera del progresso contemporaneo, i sistemi, prodotto-servizio, non più solo manifattura, non più solo servizi. Ecco, questo è la, diciamo, rappresentazione emblematica del divide. Multinazionali, ho isolato il tempo, quindi non dico niente, tanto Lelio tornerà su questo. Conclusioni. Primo, i dati ci confermano la grande eterogenità delle forme organizzative e territoriali dei sistemi produttivi italiani vengono confermati di vari produttivi tradizionali nord-sud che si compongono con nuove divergenze tra aree interne di vario tipo e aree ad alta intensità di connessioni con le reti europee, globali, infrastrutture, eccetera. è possibile con queste nuove rappresentazioni studiare argomenti di grandissimo interesse, oltre a quello già detto, tipo appunto la nuova manifattura che è insieme servizi e industria e la configurazione delle politiche. e questo è l'ultimo punto che si riconnetta all'eterogenità perché l'eterogenità italiana spesso nei dibattiti di politica ma anche nelle analisi di colleghi viene vista come un elemento di debolezza. Cioè l'Italia è un paese frammentato e la frammentazione è un elemento di debolezza. Nel nostro racconto la frammentazione è eterogenità. Ecco, l'eterogenità in un mondo incerto come diceva il presidente Alevi l'eterogenità però può essere anche un elemento di forza perché i sistemi gli ecosistemi hanno fanno forza nella differenziazione però la forza c'è se l'eterogenità viene connessa in forma di varietà connessa. Cioè non sono isole come in tanti casi nel sud ma abbiamo dei sistemi che hanno possibilità di connettersi e fare come si dice sinergie. Questo è l'ultimo punto. Grazie. 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 Buon pomeriggio. Io devo in primo luogo scusarmi con tutti ma in particolare con i relatori. Oggi va in tipografia il rapporto annuale del lice di cui sono il coordinatore e c'è stata una valanga di imprevisti per cui saltando anche il pranzo meglio di così non sono riuscito a fare. Mi vedete un po' appannato per lo stress spero comunque di riuscire a dire qualcosa di utile e comincio con non so come dire ringraziamenti congratulazioni complimenti all'ISTAT per aver creato questo nuovo sistema informativo perché è veramente un passo in avanti straordinario per chi fa ricerca economica applicata sia per quello che già vediamo e che avete visto dalle precedenti relazioni anche se io non ho potuto ascoltarle sia da tutto quello che si può immaginare di fare con questo nuovo sistema quindi in genere nei convegni si sottolineano problemi difficoltà in questo caso direi che dobbiamo davvero sottolineare una bella buona notizia per chi studia il sistema economico e sociale del paese e non è ricerca stratta è ricerca che è piena di applicazioni concrete per la vita di tutti i cittadini per andare avanti vorrei anch'io il telecomando non so dove sia questo quanto tempo ho? dieci minuti? sono rimasti? o meno? devo puntare di là? l'altra freccia? sì perfetto allora io faccio due cose sostanzialmente per prima cosa vi presento alcune elaborazioni sperimentali che sono state fatte già sul nuovo sistema operativo e che saranno pubblicate anche in un riquadro del nuovo rapporto ICE che uscirà la settimana prossima sono elaborazioni che riguardano le esportazioni insomma vedrete tre mappe simili a quelle che avete visto prima e ci ragioneremo un po' sopra la chiave di lettura che vi propongo è quella delle relazioni tra esportazioni e sviluppo locale poi tutto il resto invece è una sottolineatura del potenziale per nuove ricerche che si apre con questo sistema un potenziale che in parte può essere credo immediatamente sfruttato perché le informazioni principali stanno tutte già lì e in parte forse richiede ulteriori integrazioni ulteriori collegamenti tra questo sistema e il resto del patrimonio statistico disponibile ed è appunto su questi suggerimenti integrativi che pensavo di chiudere il mio intervento allora la prima mappa è questa questa mappa ci fa vedere la correlazione spaziale delle unità locali riconducibili a imprese esportatrici quindi non stiamo parlando di tutte le unità locali censite nel sistema ma soltanto di quelle che fanno parte di imprese che esportano tenendo conto del fatto che naturalmente non è detto che i prodotti esportati siano effettivamente realizzati nelle unità locali che osserviamo voi potete avere unità locali non esportatrici all'interno di un'impresa che esporta da qualche altra parte del territorio italiano però pur con questa limitazione sono informazioni straordinarie per il dettaglio territoriale estremamente fine al quale si riesce ad arrivare e il messaggio di questa prima mappa è relativamente semplice nel senso che qui la variabile osservata è il valore aggiunto totale delle unità locali quindi stiamo in fondo guardando la loro dimensione e quindi la mappa ci dice che nel centro nord molto spesso le grandi unità locali di imprese esportatrici tendono a collocarsi vicino ad altre grandi unità locali di imprese esportatrici mentre nel mezzogiorno questo accade su dimensioni più piccole quindi questa mappa da un lato ci fa vedere l'importanza dei fenomeni di agglomerazione da cui derivano tutta una serie di conseguenze economiche effettive o potenziali che vedremo almeno in parte andando avanti dall'altra ci ricorda una cosa semplice e cioè che le dimensioni medie degli esportatori nel mezzogiorno sono più basse di quelle del centro nord una banalità sulla quale della quale si parla fin troppo nel senso che io appartengo a quella minoranza di ricercatori che ritengono che la questione dimensionale non sia la chiave di lettura fondamentale dei problemi strutturali dell'economia italiana ma sia soltanto un modo diverso di presentarli quando noi diciamo che l'economia italiana cresce più lentamente di quelle di altri paesi diciamo una cosa a livello macroeconomico quando in Italia sottolineiamo che in termini relativi le dimensioni delle imprese sono un po' minori di quelle di altri paesi con i quali di solito ci confrontiamo diciamo la stessa cosa a livello microeconomico né più né meno quello che conta è perché crescono le imprese perché crescono o non crescono le imprese come crescono o non crescono le imprese come sappiamo dalla lezione dei distretti industriali ci sono due grandi modi diversi di crescere crescita interna e crescita per connessione con altre imprese questo non dovremmo dimenticarcelo allora la seconda variabile considerata in questo breve contributo è una stima del valore aggiunto per addetto che possiamo considerare strettamente correlata alla produttività del lavoro e questa mappa ci ricorda semplicemente anche qui una cosa che già sappiamo cioè le imprese esportatrici non solo tendono a essere più grandi di quelle che operano soltanto sul mercato locale ma in più tendono ad avere livelli di produttività del lavoro più elevati che si connettono a livelli più elevati di utilizzazione del lavoro qualificato hanno normalmente un'intensità di capitale e un'intensità di lavoro qualificato più elevate di quelle che operano soltanto sul mercato interno e naturalmente la mappa ci fa vedere con chiarezza una cosa che anche questa già sappiamo ma vederla a questo livello di dettaglio territoriale è particolarmente interessante e cioè che non soltanto nel mezzogiorno ma anche nelle aree interne montuose del resto d'Italia la produttività del lavoro tende a essere più bassa la mappa più interessante è la terza nella terza si mettono insieme unità locali di imprese esportatrici e non esportatrici e si cerca di capire se ci sia una tendenza delle une cioè di quelle non esportatrici a collocarsi vicino a quelle esportatrici immaginando che questo possa essere il presupposto per effetti di spillover come amano dire i miei colleghi dalle une alle altre che fanno diffondere competenze conoscenze produttività allora di nuovo nel centro nord vediamo che effettivamente sì imprese non esportatrici ad alta produttività si tendono a collocarsi vicino a imprese esportatrici ad alta produttività e nel mezzogiorno questo accade molto meno mentre quello che accade nel mezzogiorno è che imprese non esportatrici a bassa produttività tendono a collocarsi vicino a imprese esportatrici ad alta produttività qui forse c'è un potenziale per processi di apprendimento delle une dalle altre che potrebbero portare a ridurre i divari di sviluppo e di apertura internazionale che osserviamo forse mi serve un goccio d'acqua intanto questa mappa è tratta da un lavoro che Stefano conosce bene perché è uno degli autori e anche questo sta per uscire sul nuovo rapporto ICE che ci ricorda un'altra cosa importante e cioè che quando noi facciamo la distinzione secca tra imprese esportatrici e imprese che operano soltanto sul mercato interno in realtà ci perdiamo persino a livello di imprese non parlo più di unità locali all'interno della stessa impresa qui si parla di imprese e di gruppi di imprese ci perdiamo un pezzo importantissimo della storia cioè quelle imprese facenti parte di un gruppo che pur non esportando direttamente lo fanno comunque cioè raggiungono i mercati esteri in modi più evoluti tramite per esempio altre imprese dello stesso gruppo nelle quali è concentrata la funzione di commercializzazione oppure se sono multinazionali tramite affiliate estere che vendono il prodotto all'estero allora la nuova base dati ci permetterà credo di studiare ancora meglio questo fenomeno che è di grandissimo interesse questi esportatori evoluti sono in un certo senso l'avanguardia del sistema delle imprese esportatrici italiane altre cose che si può pensare di indagare meglio lo devo togliere con questa base informativa sono i rapporti tra esportazioni e capacità innovativa delle imprese queste sono banalissime correlazioni basate su dati aggregati a livello regionale immaginate che cosa può venire fuori osservando queste cose a un livello più dettagliato qui c'è la spesa in ricerca e sviluppo delle imprese pubbliche private sull'asse verticale e la propensione a esportare sull'asse orizzontale misurata banalmente come il rapporto tra esportazioni di beni e servizi e PIL e insomma è un grafico che racconta una storia chiara altrettanto chiara è questa qui sull'asse orizzontale c'è la produttività brevettuale misurata con una certa precisione non i brevetti per abitante ma il numero di brevetti registrati presso l'ufficio europeo di brevetti e il totale degli addetti nella ricerca e sviluppo delle imprese e anche qui il messaggio è piuttosto evidente secondo tema su cui non solo il potenziale ma anche quello che già il sistema offre è moltissimo è tutto ciò che riguarda le indagini sui rapporti tra multinazionali e sviluppo locale qui vedete elencati non ho il tempo di discuterli tutti i meccanismi attraverso i quali le multinazionali possono contribuire allo sviluppo locale c'è anche qualche meccanismo che discute di casi in cui invece le multinazionali possono portare a bloccare lo sviluppo locale ma normalmente prevalgono i primi sui secondi questi adesso sono dati a livello nazionale che ci ricordano che l'occupazione in una fase terribile come quella che abbiamo attraversato l'occupazione è andata relativamente meglio nelle affiliate in Italia di multinazionali straniere che non a livello nazionale e anche che le multinazionali fanno più innovazioni di prodotto e di processo e questo ragionamento vale non soltanto per quelle per le multinazionali vere e proprie ma anche per imprese che partecipano alle reti produttive internazionali pur non avendo la natura di un gruppo multinazionale venendo a livello territoriale questi sono dati regionali e fanno vedere a livello però di imprese la diversa incidenza delle multinazionali straniere in termini di addetti ora qui si vede subito una delle grandi innovazioni del nuovo sistema informativo perché osservare queste cose non a livello di imprese come già si poteva fare ma a livello di unità locali e poterlo fare con un grande dettaglio territoriale ci farà scoprire un'eterogeneità straordinaria vedete io poi parlo un pochino dalla prospettiva abruzzese quando voglio fare una battuta dico che l'Abruzzo è l'Irlanda d'Italia perché se correggiamo già qui la vedete al quarto posto dopo Lombardia Lazio e Piemonte cioè dopo le tre regioni in cui si collocano molto spesso le sedi centrali in Italia delle multinazionali che arrivano ma se correggiamo io so per esempio che c'è uno stabilimento importante con 300 addetti nella farmaceutica collocato all'Aquila vicino il mio Ateneo che è attribuito alla Lombardia perché Sanofia Ventis ha la sede centrale a Milano ecco se riusciamo a correggere questi dati l'Abruzzo diventa la prima regione italiana come presenza delle multinazionali nell'industria manifatturiera in termini di addetti e qui di nuovo rivediamo correlazioni semplici come quelle di prima ma straordinariamente importanti la correlazione tra presenza delle multinazionali e spesa in ricerca industriale quella con la produttività brevettuale qui vedete che si trovano abbastanza in alto anche regioni che hanno una presenza multinazionale inferiore alla media nazionale sono le regioni tipiche dei distretti industriali le due cose presenza multinazionale e capacità di esportare sono interconnesse uno dei meccanismi attraverso i quali le multinazionali stimolano lo sviluppo locale è proprio perché accompagnano le imprese locali verso i mercati esteri e qui vedete una certa correlazione sia con i livelli di propensione sia un po' meno ma comunque c'è con la export performance misurata come variazione delle quote di mercato di nuovo tutte queste cose fatte a livello locale sono a mio avviso di grandissimo interesse e quindi arrivo alle conclusioni la prima è di nuovo ribadire il ringraziamento perché siamo veramente in presenza di un'innovazione straordinaria la seconda è li ho elencato alcuni dei nuovi progetti di ricerca che si può pensare di realizzare con questa base dati sottolineo una cosa i temi li ho già trattati troppo spesso si pensa quando si parla di eterogeneità delle imprese per esempio e si focalizza l'attenzione sulle imprese dinamiche che ci sono anche in Italia si pensa quasi che la selezione competitiva attivata dall'integrazione internazionale riguardi soltanto loro riguardi le imprese capaci di esportare riguardi le imprese che importano bene perché fanno parte delle reti produttive internazionali e così via no la selezione imposta dalla globalizzazione riguarda tutte le imprese anche quelle che operano soltanto sul mercato interno sono sottoposte a selezione per questo motivo e molte chiudono studiare queste cose a livello locale è importantissimo due proposte per arricchire il sistema tra le tante che vengono in mente introdurre anche i dati sugli immigrati per capire a livello locale che relazione c'è tra per esempio le imprese di immigrazione lo sviluppo locale il commercio internazionale e naturalmente ci sono già dati sugli addetti sui salari ma se ho visto bene mancano per ora dati sulle qualifiche dei lavoratori riuscire ad avere questa dimensione di disaggregazione ma sarebbe straordinario per capire meglio come sta cambiando il mondo del lavoro in Italia per effetto della crisi e dopo la crisi grazie scusate ancora e di nuovo congratulazioni concreti anche molto insomma interessanti a questo punto io voglio chiedere se ci sono domande da parte di qualcuno quindi non vedo domande quindi diciamo Sandra nessuna domanda ok quindi diciamo quindi concludiamo questa sessione ringrazio tutti per aver partecipato ovviamente il lavoro del Frente Territoriale andrà avanti cioè diciamo che il professore Alleva diciamo ha investito diciamo poche cose fatte bene questo è il principio dell'istituto quindi piuttosto che continuare a fare elaborazioni estemporanee mettiamo faccio quindi siamo entrati cioè in una prospettiva industriale allora il Frente Territoriale non è l'ennesima base dati che viene fatta per il rapporto annuale e poi finisce in un cassetto ma è essendo fondata sui registri essendo fondata su procedure essendo integrata tendenzialmente in un processo produttivo diciamo andrà avanti quando io andrò in pensione ci sarà ancora il Frente Territoriale sicuramente diciamo la nostra la nostra prospettiva con Alessandro è evolutiva da due punti di vista la qualità cioè la qualità cioè se noi avessimo dovuto aspettare di far uscire il frame territoriale dove eravamo esattamente sicuri del valore aggiunto del comune X della Deco 5 non saremmo usciti per i prossimi 90 anni non a caso la contabilità nazionale non è uscita perché loro devono essere quindi essenzialmente abbiamo fatto un atto coraggioso nell'uscire per un qualcosa che ha livelli di qualità elevati ma che miglioreranno nel tempo quindi la prospettiva evolutiva è la qualità continuerà a migliorare perché tutta la filiera è stata rafforzata quindi l'indagine di base iulgica l'indagine che va a verificare l'indagine di copertura va a verificare dove sono localizzati effettivamente gli stabilimenti produttivi si è arricchita a partire da quest'anno di nuove variabili economiche tra virgolette le quali sono finalizzate a migliorare la stima del valore aggiunto Alessandro ci ha raccontato una componente rilevante del valore aggiunto è il costo del lavoro cioè l'aspetto retributivo del lavoratore l'altra componente viene stimata inserendo nello iugi variabili ausiliari per migliorare la stima di altri componenti miglioreremo anche la variabile valore aggiunto integreremo l'analisi con il profiling quindi fondamentalmente sempre di più si entrerà nel merito diciamo quando si va a attribuire un'attività locale a un singolo stabilimento non può essere un'operazione che viene fatta diciamo un'operazione locale che viene decisa dall'esperto diciamo solamente dell'archivio delle unità locali questo rientra in un'attività diciamo profiling il caso classico del gruppo ENI ENI è un gruppo globale che opera è uno delle principali multinazionali italiane è inserita in un profiling EGR europeo è inserita in un profiling action plan SBS ovviamente quando andremo a definire l'attività economica delle unità locali di ENI con particolare riguardo all'headquarter saremo coerenti nel profilare l'headquarter il gruppo e anche diciamo l'unità local quindi c'è una prospettiva di miglioramento evolutivo che riguarda la qualità una prospettiva di miglioramento evolutivo che invece riguarda l'integrazione cioè fondamentalmente essendo questo registro integrato con altri registri è assolutamente integrabile in modo trasversale con altre fonti il tema dell'integrazione delle fonti è un tema centrale quello che noi diciamo il nostro vincolo come diciamo istituto è quello che fondamentalmente di evitare l'integrazione con fonti parziali cioè se noi abbiamo delle informazioni molto rilevanti su un'indagine campionaria è chiaro che siccome andiamo attraverso meccanismi di integrazione del registro di base di natura censuaria un'informazione campionaria non la posso inserire diciamo direttamente nel fredo territoriale ho bisogno di sviluppare qualche modello per farlo quindi noi quello che continuiamo a fare è sicuramente ampliare l'integrazione di tutti i registri censuari quindi abbiamo messo i dati sulle imprese esportatrici perché abbiamo il registro esastivo delle imprese esportatrici abbiamo messo i dati sulle multinaziali perché non abbiamo il registro esastivo delle multinaziali o meglio lo abbiamo in qualche modo abbiamo adesso cito Silvia Lombardi se posso sull'aspetto che stiamo comprando la banca dati brevetti quindi tramite diciamo l'ufficio europeo brevetti vogliamo comprare la banca dati brevetti perché di nuovo una banca dati molto interessante e di nuovo una banca dati censuaria quindi tutto quello che è censuario verrà integrato e verrà georeferenziato quello che non è censuario abbiamo problemi di appunto di non riuscire a produrre stime di qualità a livello comunale quindi quello magari può essere integrato secondo i domini di stima del disegno campionale di quell'indagio a un livello più alto quindi noi andiamo anche verso una strategia di differenziazione diciamo dell'integrazione un'altra cosa che avrebbe detto Cruciani che non c'è è fondamentalmente il tema che l'istituto ha anche altri cioè l'istituto sta investendo sul territorio quindi sta investendo sulla georeferenziazione sta investendo sulle infrastrutture quindi infrastrutture materiali quindi strade ponti ma anche infrastrutture immateriali che è un altro tema quindi quello che noi andremo poi a sovrapporre a questa analisi è appunto dove sono posizionate le infrastrutture materiali e potenzialmente dove sono invece posizionate le infrastrutture immateriali a cominciare dalle università quindi non pensate solo a un'integrazione diciamo a livello micro cioè tutti i dati per stabilimento vengono integrati va bene ma ovviamente a prescindere dal dato sullo stabilimento il comune ha altre informazioni di carattere socio-economico e sociale che comunque saranno comunque messe a disposizione non agganciate allo stabilimento ma agganciate al comune quindi siccome abbiamo capito che l'analisi era sviluppata prevalentemente a livello comunale quando saliamo dal livello stabilimento a livello comune entrano tutte le altre basi informative ok qui concludo vi ringrazio e grazie per la partecipazione grazie per la partecipazione grazie per la partecipazione grazie per la partecipazione